La volontà di fare un progetto diverso, di qualche cosa che serve a valorizzare, la mia terra, io sono di Pinerolo, ci hanno portati a fare una costruzione che dal punto di vista tecnologico è sicuramente all'avanguardia, però vuole essere soprattutto un punto di partenza per noi, perché deve diventare innanzitutto subito una casa vacanze e attorno al progetto della casa vacanze è lo strumento anche per valorizzare un po' le produzioni e non gastronomiche che abbiamo nel nostro territorio del Pinerolese, abbiamo produzione di eccellenza sul vino, sulla birra, sull'olio, sui formaggi, sul cioccolato, sulle farine, insomma tante cose, collaborazione con chef importanti anche per degli eventi personalizzati che andremo a realizzare all'interno. Un po' la voglia di fare tutto questo ci ha portato alla realizzazione di questo progetto che è oggi l'inizio e di cui speriamo di avere un brillante futuro. Il progetto di realizzare una costruzione diversa, l'idea o meglio c'era, si è sviluppata con un incontro con i ragazzi di RD, si è ovviamente sviluppata nel tempo, partendo dal progetto iniziale, si è poi evoluta temporalmente con l'evoluzione dei lavori, siamo arrivati poi a un'idea definita complessiva, questa è un'idea che io ho avuto all'inizio prendendo spunto da, come spesso accade, da degli amici che hanno realizzato una cosa simile in una terra un po' più lontana, parliamo del Friuli, la volontà di realizzare una cosa simile qui da noi ci ha portato poi all'incontro fortuito e alla collaborazione ottima con lo studio RD.